Tragedia familiare nella tarda serrata di ieri a Teramo in un'abitazione di Viale Crispi annessa alla stazione ferroviaria. L'ex capo stazione Mario Di Rocco, 83 anni, è stato accoltellato dal figlio Francesco, 49enne, nel corso di una violenta lite scoppiata dentro la loro abitazione. Purtroppo ieri sera intorno a mezzanotte si è consumata una tragedia familiare a seguito evidentemente di un violento arterco, un figlio 49enne che conviveva con il proprio padre lo ha colpito violentemente con diverse coltellate al torace e in diverse altre parti del corpo tanto da provocarne la morte che è avvenuta intorno alle 4 di stamane nell'ospedale di Teramo. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i carabinieri del norme del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo. Sulle motivazioni sono in corso degli approfondimenti. Il dato oggettivo è che non ci risultano pregresse denunce né siamo mai intervenuti per pregresse episodi di violenza nell'ambito familiare. Il nucleo familiare era composto appunto dal padre 82enne e dal figlio 49enne che stava ancora terminando il proprio percorso universitario. Dalle prime ricostruzioni sembra che i due fossero soli e che la discussione sia degenerata al punto che il più giovane dei due ha impugnato un coltello da cucina e inferto diversi colpi sul corpo del padre. L'intervento dei carabinieri è seguito alla telefonata dell'omicida il quale ha chiamato il 118 e ha chiesto che si intervenisse perché andassimo a prenderlo. Il figlio che i carabinieri hanno trovato nei pressi dell'abitazione trattenuto in caserma in stato di fermo è stato arrestato questa mattina con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Monia Di Marco.